Scacco al clan De Luca Bossa, retata dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, arrestati. Sei affiliati, tre erano già detenuti. L'accusa nei loro confronti, detenzione illegale di armi ed esplosivi, detenzione di stupefacenti e ricettazione. Secondo le indagini di Tribunale di Napoli e DDA, tra loro vi sarebbero mandante ed esecutori materiali dell'attentato di Namitardo messo a segno il 23 luglio 2022 a Ponticelli. Contro il clan rivale, i De Micco De Martino. L'esplosione dell'ordigno, nascosto in un veicolo, distrusse le vetrate di diverse abitazioni, danneggiando tre auto. Allo stesso gruppo criminale, i De Luca Bossa, è stata ricondotta anche la disponibilità delle armi e della droga sequestrati il 9 agosto del 2022, sempre a Ponticelli. Il gruppo criminale per gli inquirenti rientra nella sfera di influenza del cartello dell'alleanza di Secondigliano. Le zone come Ponticelli, massacrate dalla guerra di Camorra, vanno liberate dai clan e restituite alla legalità e alla cittadinanza. È l'appello del deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che chiede nuove strategie per combattere le mafie in tutto il paese, scavando a fondo per recidere i legami tra organizzazioni criminali e malapolitica. Grazie.